Reverendo Don Giovanni, che come vicario parrocchiale della Cattedrale di Manfredonia rappresenti qui, questa sera, l'intera Arcidiocesi e quindi la Chiesa locale che ci accoglie, insieme a te vogliamo esprimere la nostra gratitudine al Signore per il dono della vocazione religiosa e per la grazia con cui Egli ci accompagna per conservarci fedeli ai voti professati. Ringraziamo anche San Pio da Pietrelcina, che si è reso strumento della provvidenza, sollecitando e sostenendo la presenza delle nostre tre comunità a San Giovanni Rotondo, dove Egli si è posto per tutte le consorelle che ci hanno preceduto, si pone per noi e si porrà per le future generazioni di consacrate, come modello di vita orante, ma anche attenta ai bisogni dei fratelli. Vogliamo infine rivolgere il nostro sguardo a Maria, prototipo e icona dell'amore materno, per invocare la sua intercessione e cogliere dal suo esempio la disposizione interiore a concretizzare nelle nostre esistenze quella donazione totale e senza riserve che ci è stata chiesta dal suo figlio divino e che ci siamo impegnate a vivere nello stato religioso. Per questo, ora, a nome di ciascuna delle consorelle dei tre istituti qui rappresentati, con tutti i frati e i fedeli presenti, rivolgo la comune preghiera alla Beata Vergine delle Grazie, prima di iniziare la recita del Santo Rosario. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Tu, che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore, Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria. Perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso noi. Tu, che non hai considerato un tesoro geloso, il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In Lui troviamo casa, con Lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati, Madre, per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria. Il nostro cuore ti attende. Recitiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Senti, benedetta, la vera amore, e benedetta, il futuro del tuo segno di Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i nostri peccatori. Adesso è il tuo nome della nostra vita. Amore. Amore.